Globano, Globano, Globano! No, 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 no. Per venire l'autobacco ci ha messo uno, hanno massacrato un nostro ragazzo. Per venire l'autobacco ci ha messo uno, hanno massacrato un nostro ragazzo. Per venire l'autobacco ci ha messo uno, hanno massacrato un nostro ragazzo. Noi abbiamo chiesto solo e esclusivamente il costo della zona. Questo che uno Stato ancora oggi non vuole accettare. Però nello stesso tempo, 14 di la mattina, oggi Stato delle delegazioni, che il problema, il problema, quando non mi sanno dare una risposta, ecco lei ora è della comunità europea, dicono che il problema nasce dalla comunità europea. Si tolgono... E poi ci ha messo uno, hanno massacrato... E poi ci ha messo uno, hanno massacrato... Grazie.